Ciao a tutti, è uscito anche House of Gucci di Ridley Scott, Ridley Scott vabbè appunto non stiamo a tutti i soldi del mondo, Alien, Prometheus, Il Gradiatore, The Martian, Blade Runner, insomma è inutile stare a introdurre un regista del genere. E' proprio per questo che House of Gucci mi ha lasciato con l'amaro in bocca, perché? Perché è un film che non prende davvero nessuna strada, è come se fosse anonimo, come se non avessi un'identità, nel senso lui aveva già provato a raccontare il mondo del potere, ok? E l'aveva fatto per esempio con Tuzzoli del Mondo, dove il film appunto prendeva una strada come se fosse per certi versi un po' un thriller, ok? Quella era la strada che aveva scelto. Invece in questo caso, in questo caso è come se non prendesse delle strade, cioè anche lì si poteva pensare al camp, ok? Perché per certi versi un po' sembra andare verso quella direzione, ci sono queste musiche agnotanta, queste musiche agnotante di commento, tra l'altro anempatiche, ok? Rispetto a quello che succede, che sono più, se vogliamo, poi musica di commento all'epoca, se non davvero alle azioni del film. Comunque sia, sono azioni di commento, dicevo, anempatiche rispetto a quello che succede, tipo il matrimonio, insomma. Eppure però poi non si va mai avanti con la strada del camp. Per esempio, George Schumacher, con, come si dice, Batman Forever, Batman e Robin, aveva perseguito quell'estetica. Ha detto, faccio un film con un'estetica camp. E tutto andava in quella direzione. Comunque dicevo, tutti i stati del mondo, thriller, questo film qua non si capisce da che cosa voglia essere. Poi Ridley Scott è come se non avesse un reale interesse, un reale amore per i personaggi che sta raccontando. È tutto molto freddo, tutto molto distaccato. È come se si limitasse a raccontare, un susseguirsi di eventi che ha portato appunto alla disfatta di una famiglia. Per carità, per certi versi, ci sono cose anche apprezzabili. Io ho apprezzato il fatto che i personaggi, come dire, quelli del fondo dell'investimento, non si sono stati dipinti come al solito, come viene fatto dal cinema più moldivudiano, come dei cinici avidi, disposti a tutto, pur di spregiudicati, pur di passare sopra e di fare i soldi. No, vengono dipinti come dei normali affaristi che cercano di tutelare gli interessi. Come anche ho trovato interessante che a un certo punto venga fuori il messaggio che essere un buon creativo non significa essere un bravo manager. Questa cosa è molto interessante. Questa mi è piaciuta e tra l'altro viene da uno come Ridley Scott. Ridley Scott, guarda caso, che è sia regista che produttore. A parte che anche il regista deve avere tutti i manageriali. Però appunto lui è regista e produttore, quindi è proprio una figura che sa perfettamente mettere insieme le competenze artistiche, estetiche, con quelle economiche manageriali. E quindi questa è una cosa che mi è piaciuta, questa uscita. Come del resto ho adorato Alpasino, che sono l'unico che veramente è stato in grado di emozionarmi, quando c'è il momento della firma. Quando firma, quando deve firmare, non sta per firmare. Nonostante l'inquadratura anche lì sia abbastanza lontana da lui e racconti ancora con una certa freddezza e distacco, ma la sua recitazione in quel momento è, per quanto mi riguarda, estruggente. Quindi peccato anche, perché c'era veramente un cast alpasino. Jared Leto, Adam Driver, la bravissima Lady Gaga. E quindi Jeremy Irons. È un peccato che il film decida di non avere un'identità. È come se non osasse mai, come se avesse paura a scegliere una strada. Non ne sceglie nessuna. E risulta quasi come l'episodio di una serie televisiva, nel senso che non c'è neanche un giudizio dei personaggi. Che per carità non è che ci debba essere sempre un giudizio. Però in questo caso è tutto così freddo, come se Lady Scott non empatizzasse neanche mai con loro. E questa cosa però di conseguenza, certo, si racconta una famiglia, si racconta una serie di aneddoti, una serie di eventi che hanno portato una disfatta, si raccontano i problemi delle famiglie, se vogliamo, padronali, con una certa anche magari malinconia, vedere la fine che può aver fatto, però con molta freddezza. Un biopic che però dal punto di vista emozionale è poco cinema, mi viene da dire. Quindi non lo so. A voi è piaciuto? Piacere in piacere è anche poco interessante. Ma avete trovato un film interessante? Avete trovato un film riuscito? Io, al di là del mio piacere, è proprio questo. Secondo me non è... È un film che da Ridley Scott mi aspettavo molto di più e mi aspettavo un'identità precisa. Poteva veramente essere tanto questo film. Anche soltanto nel... Anche volendo perseguire un'estetica più camp, più kitsch, ma va bene, ma andiamo fino in fondo. Perché veramente poteva essere tanto. Poteva essere un film sui soldi, sul potere, sul sesso, sulla droga. Come dire, con un'estetica... sembriamo anche più scorsesiana, per certi versi. Poteva essere tanto a livello di cinema. Eppure è così freddo, così gelo, così algito. Va bene. Grazie a tutti. Ciao e alla prossima.